La copertina è tutta per Federico Barlafante, attaccante del Real Giulianova classe 2000. Al ventiquattresimo della ripresa ha compiuto una magia mettendo a segno la rete del 2-0 il gol della sicurezza contro il Campobasso. Una rete che esprime tutto il talento di questo ragazzino dotato di straordinaria tecnica e di una velocità che pochi hanno, un diamante grezzo su cui hanno messo gli occhi già alcuni club di categoria superiore. Tre punti pesanti in chiave salvezza per i giallorossi che aumentano il vantaggio rispetto alla zona play-out ora di 5 lunghezze in virtù del pareggio del Sant'Arcangelo a Matelica. Alfadini il Giulianova sfoderato un'altra prestazione di carattere giocando anche un buon calcio sui tempi dettati da Napolano. 3-5-2 per la truppa giuliese, orfana di Di Paolo in attacco per squalifica. Accanto a Tozzi Borsoi c'è Barlafante con Torelli pronto agli inserimenti per creare superiorità numerica. Federico Delgrosso nel giorno del suo 36esimo compleanno è in campo. Ha stretto i denti, ha raccolto l'affetto dei tifosi della curva per gli auguri ricevuti. Lupi Molisani in difficoltà sin dalle prime battute. Dopo una punizione velenosa di Napolano per ben due volte il Giulianova invocherà il calcio di rigore. Al dodicesimo per un fallo ai danni di Tozzi Borsoi e un minuto esatto dopo per un altro evidente fallo, questa volta ai danni di Torelli. Ma il pessimo di Giovanni Di Caserta chiude entrambi gli occhi. Il campo basso soffre il gioco fisico dei locali che provano a cercare spesso e volentieri Tozzi Borsoi che con i centrali avversari ci va a nozze. Pagliarini non è quasi mai chiamato in causa e comunque nelle poche occasioni in cui Tommasini e Di Lauri si affacciano in avanti l'estremo di casa risponde presente. Il rigore che sblocca la partita viene concesso al trentasettesimo. Da una rimessa laterale di Fuschi, ancora una prestazione maestosa del centrale difensivo giallorosso, Tozzi Borsoi mette il pallone in area avversaria. Antonelli interviene col braccio sinistro largo. Penalti ineccepibile che il numero nove del Real Giulianova trasforma. Per ben due volte prima del riposo i giallorossi andranno vicino al raddoppio. Prima con Barlafante, poi con Tozzi Borsoi che nella circostanza rimarrà anche infortunato. E al quarantacinquesimo l'arbitro conferma di non essere in giornata quando ammonirà Barlafante per simulazione in piena area avversaria dopo aver conquistato palla sul fondo pronto ad involarsi verso la porta. Le immagini confermano che era rigore. Nella ripresa Bolzan presenta Fazzini, non al meglio della condizione, al posto di Tozzi Borsoi che si siede in panchina. Il capobasso aumenta il ritmo della gara. Calzola e Musetti al posto di Antonelli e Cogliati. Si fa male Marco Antonelli che poi lascerà il campo per Gori. Tozzi Borsoi si lamenta con gli avversari che non buttano palla fuori per far soccorrere l'esterno giallorosso. L'arbitro espelle l'attaccante del Real Giulianova. Poi la magia di Barlafante per il 2-0 con cui verrà fissato il risultato. Sfiora la rete Napolano alla mezz'ora, mentre Del Grosso non ne ha più. Al suo posto Rinaldi. Finale di gara in cui accadrà di tutto. Bolzan è costretto a richiamare l'acciaccato Fazzini che mentre lascerà il campo non saluterà il proprio allenatore che lo rimprovererà per la mancanza di rispetto nei suoi confronti e degli altri compagni. Al 45esimo il Giulianova rischia l'autogol, mentre poco dopo grossa ingenuità di Crisci che aveva preso il posto di Fazzini che si vedrà sventolare il cartellino rosso. La gara si chiude con il palo colpito dai rosso-blu con Musetti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Boccata d'ossigeno per la formazione giuliese che domenica renderà visita all'Isernia. Altro scontro diretto. Vietati i cali di concentrazione. Mister una grande partita, una partita di carattere, una Giulianova che porta a casa tre punti importanti nonostante qualche giocatore non al meglio della condizione. Ma allora sul fatto del carattere non sono d'accordo perché non credo che si possa fare, no, non sono d'accordo perché non credo che si possa fare questo sport senza il carattere, la voglia, la passione che giustamente oggi ci hanno messo loro. Per il resto non credo che oggi il Giulianova abbia fatto solo quello perché secondo me ha provato a giocare a calcio. È normale che quando è uscito Tozzi-Vorsoi dopo è cambiato un po' tutto. No, non abbiamo cambiato modulo però le uscite erano diverse quindi non ci difendevamo più a tre se no a cinque dopo qualche minuto quindi comunque sono soddisfatto perché loro lavorano bene, devono lavorare su, dobbiamo lavorare sulla loro testa perché fuori casa non possiamo più fare le prestazioni come quelle che abbiamo fatto a Iessi. Mister, sullo 0-0 prima del rigore concesso ce ne erano probabilmente due nell'arco di un minuto. Secondo me erano tutti i rigori che non ho dato, per me erano tutti. Ora dopo l'arbitro, non parlo mai dell'arbitro nel bene e nel male, non lo farò mai. Tu mi hai chiesto un parere, per me erano tutti i tre rigori, anche se io ero lontano, un po' presuntuoso a parlare così. Mister, c'è stata una situazione con Fazzini durante il cambio? No, non ti ho sentito, scusa. Dicevo, quando c'è stata la sostituzione di Fazzini, lei ha avuto qualcosa da ridire al suo giocatore? No, allora, quando è uscito Fazzini ha avuto un atteggiamento nervoso perché magari lui pensava che il cambio era stata una vociatura, invece la realtà è che Fazzini non si allena da un sacco di tempo. Oggi lo abbiamo portato in panchina giusto per, invece abbiamo avuto bisogno di lui, l'ho dovuto buttare subito in campo. L'importante è dare continuità anche fuori casa, i numeri parlano chiari, io da quando sono qua in casa c'è una marcia, fuori casa c'è un'altra. Quindi bisogna che lavoriamo sulla testa, Giulianova deve giocare da Giulianova sia in casa che a Iessica, a Sant'Arcangelo, non deve cambiare niente. Qua si spinge fino all'ontesimo, nelle altre due partite abbiamo smesso di farlo quando mancava ancora 30-35 minuti di partita. Penso che il problema più grande nostro sia quello. Ora però loro devono capire che noi andiamo ad Isernia e andiamo a Isernia a vincere la partita. Con questa intensità, con questo carattere qua. Aspettavamo che giocavano questa palla su Tozzi Borsoi e andavano a fare la guerra sulle seconde palle. Loro sono messi a 5-3-2 per fruttare questa, avevano quell'opzione lì che era buttare questa palla. Al primo tempo noi su questo è un gioco che facciamo fatica a fare, per fisicità di squadra andiamo in grossa difficoltà. Noi dobbiamo giocare palla a terra e lavorare nello spazio, spazio non ce n'era, palla a terra non ci stava mai perché il campo di sicuro non ti aiuta a giocare a calcio e quindi siamo andati il primo tempo in difficoltà. Al secondo tempo loro quell'uscita non ce l'avevano e al secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio noi però loro hanno provato i due gol quindi bravi loro e si meritano di aver vinto. Comunque tornando un po' alla partita di oggi, Giuliano Vanni non vi ha concesso tiri se non nella parte finale, proprio nella fase di recupero. Sì, sì, ripeto, loro hanno avuto tantissima intensità, non hanno il campo, obiettivamente è impossibile giocare a calcio perché è messo abbastanza male, era secco, la palla rimbalza male, ci hanno costretto a buttare sta palla lunga e loro sono messi dietro a cinque e diventava impossibile proprio per caratteristiche dei nostri giocatori. Se non riusciamo a mettere la palla in terra e giocare nello spazio facciamo fatica. Giuliano Vanni invece, specie nel primo tempo, faceva il suo gioco perché si appoggiava su Tozzi Borsoi e andava a lavorare sulle seconde palle. Poi non abbiamo creato niente noi, non hanno creato niente loro, però loro hanno trovato i due gol e quindi hanno vinto.